...Niio sono Soin...niin! Heheheheh...mi sento tanto gay! Che succede? Che meglio? Che testa di c... Ascolta, stranunzo! Questa città non è abbastetta è abbastetta per noi due! E uiue! Eh no? No? Eh? Eh-eh-eh, sssssssh Io resto qui! No, io resto qui! Sapete una cosa? Mi sa tanto che è arrivato il momento di usare il pisello Il sarto puli perfetti, riparazioni e pulite al culo, mentre vi sedate. Aspettami là dietro, amico. Vediamo se riesco a scoparti il di dietro. Ecco fatto, ora basta sparite i cofioni. Porca puttana, vado pazzo per il cazzo. Sì, 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 tagliare! No, non così brutto vento di merda! Tocca a te zonare, carca! Sì, 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 no, mi mette la fretta, sto cazzo! E mi viene di cadrar! Non, non, non... Hai perso? Ho sperso! Sesto piano, pneumatici, asciugamatici, asciugamarzi, carta vetrata, carta sburrata, calze di carta, panetti panetti, e cartoline illustrate, colorate, colorate, colorara, colori. I loro... Scende signore, da questa parte c'è la caca e sigata! AAAAAAAAAAAAH AAAAAAAA AAAAAA